Un fotografo di fama internazionale, Adriano Bacchella. Ciao Adriano. Ciao Darwin, buongiorno a tutti. Benvenuto, noi siamo qui per presentare il tuo ultimo lavoro. Cento ricette di montagna, Polente e Ciaspole, con le tue fotografie, i testi di Gabriele Isaia, Priuli e Verluca, editore. Come mai questa idea di libro? Allora, l'idea del libro è nata da me ed è una specie di circuito ideale nella nostra montagna ideale. Cioè i posti dove io ho fotografato, ho girato e ho accolto le ricette sono le Alpi. Questa attraversata delle Alpi. Questa attraversata delle Alpi in cui però noi abbiamo messo volutamente la descrizione specifica dei posti geografici. La montagna che esce da questo libro, oltre le ricette, perché è un libro di ricette e ci sono cento ricette che io ho raccolto dallo chef stellato e invece dalla contadina nella Baita Valser. Ecco, questo è interessante. Ho voluto fare un po' questa forzatura perché gli chef stellati non sempre hanno piacere di essere... ma secondo me ha vinto un po' l'armonia. L'armonia vuol dire che anche nei diversi posti e secondo me ognuno di noi nelle diverse momenti della propria vita a seconda se hai 20 anni, 30, 40 o 50 o 60 o di più magari hai piacere di assaporare alcune cose in un rifugio alpino o magari in un ristorante di fama. Adriano, tu sei nato a Torino nel 1960 e Torino è anche, voglio dire, un luogo del tuo lavoro. Tu hai fatto anche un libro fotografico su Torino. Se tu dovessi scegliere un angolo di Torino che più di qualsiasi altro ti ha affascinato, qual è stato quest'anno? Beh, più che un angolo specifico, se posso dire, io adoro Torino, anche se mi piace la Torino viva, la Torino allegra e luminosa, però io Torino l'adoro nelle serate d'inverno con un po' di nebbia quando non c'è nessuno. Passeggiare nelle piazze o passeggiare sotto i portici, quando senti il ticchettino dei passi, io trovo che sia un'esperienza bellissima. Senti, tu, leggo della tua storia, che hai iniziato questo mestiere di fotografo da ragazzo? Sì, io ho sempre solo campato facendo il fotografo da quando ho 19 anni. E tra l'altro hai fatto anche il giro del mondo, andando in Africa, andando in tutti i paesi, e tra l'altro adesso le tue fotografie finiscono su tutti i giornali del mondo, e tra l'altro tu hai una passione, ma ne parleremo dopo, soprattutto per gli animali.